Quando ho chiamato all'azienda mi ha detto lei licenziato dal 13 luglio e gli ho detto grazie. Non ha perso l'ironia Cesare Votta, 52enne catanzarese, dipendente della SIECO, società che in città gestisce il servizio di raccolta differenziata. Lo scorso 20 settembre non vede accreditarsi lo stipendio e così chiama in azienda. Ma neanche mi hanno comunicato il licenziamento. La cosa grave per me è questa, ce l'hanno fatto con tutto lo scopo, sia nelle mie pretese che rientro e mi hanno fatto fare la vista. Ho richiesto le ferie e le ferie non me le hanno date, mi mandavano questa lettera di sospensione, che il mio avvocato risponde tutte le lettere e a tutte le cose. Cioè loro non mi davano l'opportunità di farmi entrare nel servizio, in qualche servizio, in qualche ruolo da poter svolgere. Troppe le essenze accumulate per potersi curare e così la società ha deciso di licenziarlo. Da quattro anni Cesare combatte infatti con una sclerosi multipla che gli ha fatto in parte perdere la funzionalità al brazzo e alla gamba sinistra. Non ho la stabilità, non posso camminare, ho bisogno di un appoggio mentre cammino. Tutte queste cose qua, non riesco a fare più le cose quotidiane, c'ho la barba per dire, in lavarmi di queste cose perché mi aiuta sempre mia moglie. Assistito dal suo avvocato ha impugnato il licenziamento, ma Cesare ha smesso di sperare, di poter entrare al lavoro svolgendo una mansione differente da quella di autista, magari più adatta alla sua condizione. Non so cosa fare, ho pensato che sì, la malattia già mi ha dato il senso di che la vita per me era finita, adesso ci diciamo che è una cosa in più che ci sembra che si va sempre in un tunnel buio e non si vede mai la luce. Luana Costa per la Cineus 24. Luana Costa per la Cineus 24.